Non ti fidare di un uomo femminista, perché comunque non può capire. Dei furbacchion è il primo della lista, lui vuole farsi bello e stupire. Non ti fidare di un esibizionista, ed i tuoi spazi può riempire. Femminista per colpire, femminista per credire, non può capire. Non ti fidare di un uomo femminista, se si avvicina non ti fidare. Perché, perché comunque è un egoista, e stai sicura che ci vuol provare. Non ti fidare, è un gran protagonista, a casa tua non lo invita. Femminista per scioccare, non ti fare mai gannar, non ti fidare. Dice che verrà a tutti i cortei, e che cercherà il tuo punto J, non pretenderà rapporti completi. Dice che farà introspezione, e si metterà in discussione, pure in piazza andrà a raccogliere le firme. Lui contannerà, pur cacciatore, non vedrà in tv neanche un rigor, anzi leggerà con te franca l'amè. Femminista per scioccare, non ti fare mai gannar, non ti fidare. Non ti fidare, non ti fidare, di un uomo femminista, e che cercherà il tuo punto J, se si avvicina non ti fidare. Perché, perché comunque è un egoista, e stai sicura che ci vuol provare. Non ti fidare, non ti fidare, di un uomo femminista, e che cercherà il tuo punto J, se si avvicina non ti fare mai gannar. Non ti fidare, di un uomo femminista, e che cercherà il tuo punto J, se si avvicina non ti fidare.